Buonasera amici, stasera andiamo a fare un esperimento con l'acqua calda a 42 gradi, misuriamo l'acqua questo impasto è senza sale, quindi acqua, farina e lievito questo esperimento a cosa serve? Ragazzi fate mi piace questo esperimento serve a capire che attività fermentativa abbiamo vedete? 42, 41 ho finito il agua più caldata, abbiamo ancora più calde fresco, calde fresco faccio un carbonato, pulito avuto inglese, gorgia, gorgia, abbiamo un inglese B1 sì, sì, venga melbourne power, salt, fresh, east good look at that, look at that oh, 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 no, no, no no haha really the first ball, stand up second balls all ready all ready experiment ok ok now put in the water a dough with salt the ball don't have salt second dough dough have water flour salt fresh, east good yes, yes, venga melbourne second balls with 2% salt ok really really look at that two minutes please look water more cold cold water please now my finger look at that sembra facile ma non lo è ok sembra facile ma non lo è ma non lo è ok sembra facile